L'Uomo non può vivere senza amore. Dall'enciclica Redemptor Ominis di Giovanni Paolo II del 1979 numero 10. L'uomo rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l'amore, se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. E perciò appunto Cristo Redentore, come è stato già detto, rivela pienamente l'uomo all'uomo stesso. Questa è, se così è lecito esprimersi, la dimensione umana del mistero della redenzione. In questa dimensione l'uomo ritrova la grandezza, la dignità e il valore propri della sua umanità. Nel mistero della redenzione, l'uomo diviene nuovamente espresso e in qualche modo è nuovamente creato. Egli è nuovamente creato. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. L'uomo, che vuol comprendere se stesso fino in fondo, non soltanto secondi immediati, parziali, spesso superficiali, e perfino apparenti criteri e misure del proprio essere, deve con la sua inquietudine e incertezza ed anche con la sua debolezza e peccaminosità, con la sua vita e morte avvicinarsi a Cristo. Egli deve, per così dire, entrare in lui con tutto se stesso, deve appropriarsi ed assimilare tutta la realtà dell'incarnazione e della redenzione, per ritrovare se stesso. Se ne lui si attua questo profondo processo, allora egli produce frutti non soltanto di adorazione di Dio, ma anche di profonda meraviglia di se stesso. Quale valore deve avere l'uomo davanti agli occhi del Creatore, se ha meritato di avere un tanto nobile e grande Redentore?